Trovo che questa seduta sia surreale perché stessa la maggioranza tramite la direzione centrale servizi finanziari afferma che ci sono disallineamenti contabili riportati nella loro nota del protocollo 2018-38-24 del 24 aprile trasmessa dal servizio di contabilità. Disallineamenti contabili che praticamente non fanno mantenere l'equilibrio di bilancio. Il servizio partecipate afferma questa cosa e fra l'altro non ci sono i bilanci depositati delle partecipate, quindi vorrei capire di cosa stiamo parlando in questa giornata, di che assestamento di bilancio stiamo parlando e su che basi è stato fatto questo assestamento di bilancio.